Gara su strada La domanda valida per il provinciale regionale 2023 il 4 di giugno Ci siamo le fasi finali, ultimo giro Settimo Attenzione, attenzione, avvicinarsi alle transzende State lontani dal percorso Ultimo giro E poi un altro strappettino Un giro un po' più corto e un altro strappettino Attenzione, attenzione, attenzione Lo chiama strappettino Forse perché non l'ha fatto in bici Non è molto davanti quindi è troppo compatto Chissà che se la giocheranno Alla fine Altre macchine dell'organizzazione E poi le ragazze All'ultimo passaggio Il prossimo sarà Traguardo finale Un altro traguardo volante intanto Vengono voli a cuore Allora non li affacci L'ultimo giro fanno Altri voti della scorta tecnica In arrivo Eccole, eccole, eccole Curva destra Sono sul rettilineo Ci siamo, ci siamo Dai ragazze Dai ragazze Ci siamo L'ultimo giro Ultimo giro E un altro traguardo volante Ultimo giro Ultimo giro Dai ragazze Ultimo giro 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 Orecchie al walkie-talkie della radiocorsa per le informazioni metro dopo metro. Avvicinatevi pubblico per la fase finale e per il grand finale.